ciao a tutti bentornati su un nuovo episodio dell'anglo del game e all'interno di raymond legends oggi faremo del misterius inflatable island con il nostro personaggio sotto l'acqua una gara sotto l'acqua c'è una ho già perso tempo ai rossi fanno esplodere ok cioè sono esplosivi non mi devono toccare quindi da che parte ok ho perso tempo perché non mi ero corto che c'era il pulsante dell'energia elettrica avrei potuto fare un tempo migliore quindi allora anche questo episodio è arrivato al termine prima vediamo se si sblocca qualcosa se c'è qualche ticket da girare vediamo un po no tutto a posto facciamo finire qui l'episodio ciao a tutti